Ora si registrerà la conferenza. Ciao ragazzi, buongiorno, bentrovati, buon inizio settimana, buon trading. Allora i miei ragazzi mi hanno detto, Matteo, visto che hai raggiunto già il tuo target, ci fai un video sui pivot point? Allora, ho trovato questo indicatore che ho già consegnato ai ragazzi della chat. Non vi dico qual è, ma perché vi dovete abituare a svegliarvi un po', cercatelo, è nella biblioteca della MetaTrader, sul sito MQL4, cercatevelo, fatevi il culo e lo trovate. Grazie, su come funziona questo indicatore. Niente, si chiama Premium Pivot e sostanzialmente vi fa vedere i livelli di pivot sui vari time frame. Questo tizio ha fatto un ottimo lavoro, ha pensato anche al discorso di fare un refresh ogni tot periodo per salvare la CPU del computer. E sostanzialmente questo Enable Pivot 1, Enable Pivot 2, Enable Pivot 3 vi fa attiva i vari pivot del daily, del weekly e del mensile, ovvero del periodo che voi avete scelto, con calcolo normale, che è sostanzialmente quello più usato. E poi qui potete andare a dirgli se volete vedere sia il scritto, S1, Pivot, weekly, eccetera, mettendo tutto su true, sia le linee sostanzialmente. Quindi queste sono le linee, che dovete mettere yes se le volete vedere, e queste sono i label, cioè la scritta fondamentalmente. Quindi potete attivare i vari pv del mensile, del weekly, eccetera, eccetera. Ho trovato anche un altro indicatore molto carino, che dovete mettere su un grafico apposta pulito, che sostanzialmente vi manda un alert, ok? Vi manda un alert sul computer visivo, oppure anche se attivate le notifiche push sul vostro telefono per capire quando questi strumenti arrivano sui punti desiderati. Stamattina a casa mia, sembrava di essere in un centro team, la mia ragazza ha detto, chi è che ti manda tutti questi messaggi? No, amore, sono i pivot point, e lei ha detto, ma, come dire, non capisci un cazzo. Vabbè, è classico. Comunque, pivot point, che cosa sono? Sono dei livelli di supporto e resistenza. Io amo tutto quello che è statico, ve l'ho detto mille volte, tutto quello che rimane così per quel periodo, perché è un indicatore leading, non lagging, sostanzialmente ci può far capire quali sono i punti dove il mercato svolterà. E quindi, di conseguenza, ci serve, ci serve, ci serve. Sono punti molto interessanti. Devo dire, io quelli daily li ho sempre usati, avevo un po' sottovalutato quelli weekly e quelli mensili, e invece creano all'interno della giornata dei punti molto interessanti, no? A volte uno dice, ah, cavolo, come mai si è fermato prima? Eh, perché magari ha trovato un punto derivante dal weekly e dal mensile. Sono costruiti giocando con i prezzi più importanti della sessione precedente, nel caso di quelli daily, il PV sostanzialmente è il prezzo tipico, no? Infatti è la high più low più la chiusura diviso tre, e per quanto riguarda le R1, R2, S1, S2, S3, sono sostanzialmente costruiti, ecco, vedete, suona in continuazione, andando a giocare con questi, con questi aspetti. Ve l'ho detto, sembra di essere in un centro team. Quindi sostanzialmente sono punti molto interessanti, molto usati, e spesso e volentieri coincidono con dei livelli di supporto e resistenza tracciati a mano, sostanzialmente. Questo rafforza in maniera clamorosa l'analisi, e ci fa fare delle ottime trade con rischio rendimento molto alto, e soprattutto un timing davvero davvero eccellente. Io sono tre weekend che ci lavoro approfonditamente perché mi era preso un po' il pallino, penso che questi pivot point mi faranno fare un divorzio, anche se non sono ancora sposato, perché ci ho dedicato veramente tante ore nell'ultimo periodo, ho già trovato i miei setup, le mie cose per farli funzionare adeguatamente, ma non ve li dirò, le riservo per il corso live, perché se no allora uno che cosa viene a fare a live, quindi chi verrà live del 30 novembre, primo dicembre sulla SR, avrà tutti questi tip e trick di grande valore, di grandissimo 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 valore, insomma direi che ho trovato una cosina molto interessante per il mio trading, molto 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 interessante, non si finisce mai di imparare, lo dico sempre, tutto ciò che è statico e di mio interesse, e i pivot point, dopo avervi studiati bene, sono diventati di mio grande interesse. Quindi per chi non viene al corso live, mi limito a dire, senteli d'occhio, guardate che cosa succede, guardate che cosa succede quando il nostro grafico a 5 minuti fa i pattern che ricerchiamo con la SR, in concomitanza anche con i pivot point, ne rimarrete sicuramente sbalorditi, e sarà un grande aiuto nel vostro trading, e per quanto riguarda invece tutti i miei studi, tutto il mio preciso setup molto molto interessante, lo vedrete al corso live del 30 novembre, per chi verrà, chi fosse interessato, mi può sostanzialmente scrivere. Quindi un caro saluto da tutto il team di Professione Forex, ci vediamo ad un prossimo video, e buon trading. Ciao!